Sono 4.743 i positivi ai test covid nelle ultime 24 ore in Campania, su 38.357 tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta al 12,36%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono due le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 971, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55.